Chiede chiarezza alla funzione pubblica della CGL su alcuni aspetti inerenti il personale dipendente dell'ASL Toscana Sud-Est e per farlo ha inviato una lettera direttamente al direttore generale Antonio D'Urso. Carenza cronica di personale con continue sforbiciate di anno in anno. Inoltre l'ASL, secondo la CGL, scaricherebbe sul fondo dei dipendenti i costi derivanti dalla mancanza di personale. Non si assume, ma la spesa per straordinarie prestazioni aggiuntive lievita, dice il segretario provinciale Gian Maria Acciai. Tra i problemi è anche quello di vedere e riconoscere i propri diritti contrattuali solo tramite un magistrato, come avviene con il caso dei tempi di vestizione, cioè quelli che occorrono per indossare e rimuovere la divisa. Secondo la CGL, i 10 minuti di tempo tuta sono nel contratto nazionale, ma vengono riconosciuti dall'azienda solo a chi fa causa, come succederà presto, dice Acciai, anche per i buoni pasto. Per la CGL, l'azienda sanitaria rifiuta il dialogo e gli incontri per chiarire i punti. Pronta la replica del DG Antonio D'Urso, che smentisce le preoccupazioni sui tagli da parte del sindacato. Nel 2023, spiega il DG, ci sono 50 unità in più rispetto allo scorso anno. L'azienda sta attuando un piano assunzionale importante che per il personale del comparto ha già portato a 246 assunzioni. Per quanto riguarda i diritti contrattuali, dice D'Urso, la CGL è a conoscenza che l'argomento relativo ai tempi di vestizione e svestizione del personale è già calendarizzato al prossimo incontro della Commissione Paritetica ASL Sindacati in programma a settembre.